Sofì, mi siedo vicino a te? Una cosa che ho sul mio telefono Una foto, dovete assolutamente vederla Sì, che foto è? Vediamola! Facci vedere Noci, nessuno vuole vedere la tua foto Tranquilla Sofì, stavo solo scherzando Nessuno vedrà quella foto Speriamo Estreita, Ginny, stava per far vedere la mia foto Ma io non voglio E ho paura che adesso la fa vedere agli altri Perché mi ha detto che non la fa vedere Ma magari lo fa, quindi sarebbe una bugiata Estreita, sto solo nel palco E adesso che cosa faccio? Oh, l'estreita Io sono Ce l'ho da voi ragazzi Io sono la Beth Molly E io sono Sophie E oggi siamo Siamo al College Las Lunas Allora, io e le altre siamo venute qua prima Perché qua al College Las Lunas È tutto da pulire, è molto sporco Infatti Il fatto è che non abbiamo ancora una vidella Perché Costa, costa E la scuola per il momento non può permetterselo Perché è appena aperto Allora, ragazze Ma ragazzi Come facciamo? È tutto sporco E non abbiamo una vidella Non preoccupatevi Sarò io la vidella del College Las Lunas La vidella Lu è molto carina da parte tua Ho giusto qui la divisa della vidella Che non abbiamo Ok ragazzi, però Dovete aiutare Lu Non può farcela da sola Tieni Ok, adesso voi vedete come potete aiutare Chi sposa per terra Chi sistema i banchi Chi pulisce i banchi E questa scuola deve essere uno splendore Uno specchio Forza, ragazzi Forza Però guardate Ho scritto Lu La vidella Ecco qua Ecco qua Lo puoi mettere nel taschino qua Perfetto Sono Lu La vidella La vidella Ma come ti sei vestita? Bene Ragazzi Non si prende Il giro Basta Lu Grazie per il tuo lavoro Non capite niente Ma Sofì Stavamo solamente scherzando Infatti Sofì Era solo per ridere Te la prendi troppo sul serio Adesso puliamo tutti Bravi a tutti Bravi ragazzi Per la collaborazione In questa scuola Allora Adesso distribuisco Le verifiche Di spagnolo Ragazzi Basta Non vi lamentate Sapete che la scuola Sta finendo Fra poco Ci sono le vacanze estive E bisogna fare Tantissime verifiche Qui al college Las Lunas Come a casa Ragazzi e ragazzi Che ci state ascoltando Scommetto che le vostre professoresse O le vostre maestri Vi fanno fare Tante verifiche È così Sì o no? Scrivetelo qui sotto È perché siamo In chiusura di anno Forza Ma oggi le popolari Vengono Boh non lo so Sotti Ok Allora Ma oggi Ginni e Jenny Vengono qua a scuola Il college Las Luna Sai che io non lo so Estridas Speriamo di no Incrociamo Le dita Per favore Speriamo E lasciate un like Per favore Se anche voi Volete che Ginni e Jenny Le due popolari Non vengano Ragazzi Anche qui Le verifiche Mi raccomando Fate del vostro meglio Sì Parte il timer Ragazzi Mette solo 30 minuti Ma non posso copiare Sono tutte diverse Sono tutte diverse Le verifiche No Ma che cosa sta facendo Stai dormendo Spera Spera Ciao verifica Ma non siamo qua Grazie mille Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Andiamo Lu Ecco per te la verifica Allora Ringrazio per il tempo Forza Brava Brava Lu Se vuoi però Puoi cambiarti In Let's uy Quindi Anni, ma sei sicura che non vengono Ginny e Jenny? Sofì, ma perché sei così preoccupata? Eh, niente, niente. Ale, sei proprio sicura che non vengono Ginny e Jenny? Ma perché continui a fare queste domande? Eh, niente, niente. Continuiamo a fare le verifiche. Sofì, è molto strana. Ale, Ale, Ale. Sì. Anche a te, Sofì, sembra così strana. Sì, fa sempre la stessa domanda e non ci vuole mai dire il motivo. Sì, non si vuole confidare con noi, non me la racconta giusta. Questi, adesso sono molto preoccupata per le popolari Ginny e Jenny. Spero che non vengano qua a scuola. Prof Moni? Sì, posso andare in bagno? Va bene, Sofì. Cinque minuti, ragazzi, è dall'intervallo. Finite le verifiche. Yeah, ricreazione! Ragazzi, finite la verifica. Cinque minuti, mi raccomando. Sofì, puoi andare in bagno. Dai, forza! Bene, allora io corre con le verifiche. Voi potete fare ricreazione, ragazzi. Yeah! Allora, con la panella. Allora, con la panella. Direttamente in libreria. Oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Estritas, sono qua in bagno perché ho paura che Ginny e Jenny vengano qua al college. Io ho molta ansia. Non so che non ci sono ancora, però ho paura. Avete visto il video precedente? Beh, ve lo lascio qua di fianco. È stato molto imbarazzante. Estritas, io ho così ansia perché la scorsa settimana Ginny e Jenny mi avevano chiesto in prestito il mio cellulare. Allora, io gliel'avevo prezzato. Ma loro avevano trovato una mia foto molto imbarazzante. Che si trattava di cui che io... Mi schiaccia un brufolo, ecco. Io non lo sapevo, ma loro hanno salvato quella foto, una copia, nel loro cellulare. Allora, adesso vi spiego per bene. È successo che... Vedi, vediamo le foto. Va bene. Qua. Carino. Carino. Sofie. Carino. Ahahahah! Abbiamo scoperto il segreto di Sofie! Mamma mia mia! Dai, dai, inviatela sul telefono. Sì, sì. Inviata. Per fortuna, oggi Ginny e Jenny non sono venute, ma spero che non vengano, perché sennò sarò in veri guai. Non so che cosa fare, perché loro mi hanno minacciata, mi hanno detto che se io non farò tutto quello che loro mi diranno, faranno vedere a tutti la mia foto. Ma io non voglio! Ed è successo che... Pensaci bene e non dirlo a nessuno, altrimenti tutti a scuola vedranno la tua foto. Esteritas, non so se potete capire come mi sento, però ho bisogno della vostra forza, per favore. Lasciate un like, iscrivetevi e cliccate la campanella. Clean, blown! Però adesso gli altri mi stanno aspettando. No, devo andare in classe. Eccoli! Posso mangiare anch'io? Buonissimo! Tutto bene, Sofì! Sei stata in bagno una vita? Sì, sì, adesso è tutto ok, va meglio, grazie. Ciao, sono arrivata. Posso unirmi con voi alla merenda? Se vi dispiace. Ok! Boh, per me è uguale. Va bene. Sofì, mi siedo vicino a te. Oh, Sofì, che bel biscottino. È anche buono. Me lo prendo io. Ma era la mia merenda? Un vestito, due vestiti Sei il terzo in fondo al mar Siamo soffi e moni, due sirree Puoi chiamarci la slunas Un vestito, due vestiti Sei il terzo in fondo al mar Siamo soffi e moni, due sirree Puoi chiamarci la slunas Ragazzi vorrei sapere una cosa divertente? Sì! 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 Una foto che ho sul mio telefono Una foto Dovete assolutamente vederla Sì, che foto è? Vediamola! Facci vedere No, sì! Nessuno vuole vedere la tua foto Tranquilla, Sofì Stavo solo scherzando Nessuno vedrà quella foto Speriamo Ma che foto? Ma che foto? Ma che foto, infatti? Che foto? Non vi preoccupate, ragazzi Nulla di importante Io vado un attimo in bagno Ginny, ma che foto è? Niente Lo sappiamo solo io E Sof E Jenny Estreitas Ginny Stava per far vedere la mia foto Ma io non voglio E ho paura Che adesso la fa vedere agli altri Perché Mi ha detto Che non la fa vedere Ma magari lo fa Quindi sarebbe una bugiata Estreitas Sono nel panico E adesso che cosa faccio? Perché ti manca la tua foto, Sofì Quella del brufolo Ma ragazze Avete guardato le mie foto? Senza permesso in più L'altra volta Le popolari Si sono messe a ridere di me E come l'hanno fatto loro Lo faranno tutti Rideranno tutti di me Oh no Non posso tornare in classe Non posso confidermi con le mie amiche Perché Ginny di là E se ne accorgerebbe E mi hanno bilanciata Quindi Non posso fare niente Se Sono in un angolo Senza una via d'uscita Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Non posso fare niente Pensa 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 L'unico modo E scappare E andarmene da tutto E da tutti Voglio sparire nel nulla Basta Me ne vado Ssss Estritas Rimarrò nascosta qui Fino a quando sarà necessario E poi Sono molto arrabbiata Con le popolari Ma perché ho fatto quella foto? Quella foto imbarazzante Voi Estritas Voi Non fate mai Vostre foto imbarazzanti Quindi per favore Estritas Datemi la vostra forza Lasciate un like Iscrivetevi E cliccate la campanella Tlindlond Ragazzi Grazie Finita la ricreazione Tutti i posti Ma Dov'è Sofie Per favore Chiamatela Che finite la ricreazione Ragazzi Andate a chiamare Sofie Per favore Sofie in bagno Sì? Sì? Dimmi Rob Moni Vado a controllare io il bagno Grazie Grazie Per favore Iniziate a sistemare Come Ragazzi Sofie è sparita Sparita? Sparita? Non c'è il bagno Pazienza Come è sparita? Ragazzi dobbiamo andarla a cercare Se non è qui C'è una uscita Non ce ne siamo accorti Oh no Estridi Se voi avete visto qualcosa Scrivetelo qui sotto Nei commenti E lasciate like Camine Sei davvero sicura? No Non c'è in bagno Ho guardato così bene Che proprio non la trovo Nessuno si accorderà Che sono sparita Perché intanto Nessuno mi vuole bene Neanche Ari e Alessia Perché l'altra volta Si sono arrabbiati con me Non mi hanno capita Si sono arrabbiati Perché non mi sono confidata con loro Cosa è successo? Ti abbiamo visto parlare con le popolari No Non ve lo posso dire Ragazze Mi dispiace Ma noi siamo le tue amiche Scusa Ma se non ti confidi con noi Allora non sei una vera amica Non ve lo posso proprio dire Ma scusami Noi siamo le tue amiche Beh se continui così Rimarrai da sola Noi ce ne andiamo Chiamaci quando cambi idea Ciao ciao Ma io non posso confidermi con nessuno O se no Le popolari Ginny e Jenny Faranno vedere la mia foto A tutti Che cosa faccio? Non posso fare niente Estelitas Io sono triste Ma tanto triste Ma è impossibile che è sparita Allora io vado avanti che sono la pitella Voi statemi dietro Ok? Ok Ok Ma chi se ne frega? Non c'è Cosa avevo detto? Non la troviamo Ragazzi cosa facciamo? Dobbiamo cercarla Andiamo al barchetto a cercarla Sì a lei mi piace Andiamo dai ragazzi Sì a lei mi piace Andiamo 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 Io me ne vado Mi sono stancata Non voglio più vedere nessuno È un'ora che cerchiamo L'avete trovata ragazze No È da un'ora che cerchiamo Ma non l'abbiamo trovata Dalle sue parti No ragazze Non so cosa dire Noi però dobbiamo andare a casa Oh no ragazze Come facciamo? Sono preoccupatissima Lu Tranquilla Moni Vado io a cercarla al barchetto Stai insieme a me allora Ci dividiamo Io cerco da una parte E tu dall'altra Ok io vado al barchetto Ok Andiamo Stai dopo Sì Sofì 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 dove sei? Non la trovo Estreglitas Sono molto Molto preoccupata Lui è andata a cercare Sofì in un altro barchetto E io sono venuta qui Nel nostro solito posto Spero di trovarla Estreglitas Sì Ho bisogno della vostra Forza Ho bisogno di voi Lasciate like Sofì in un altro barchetto Sofì dove sei? Sofì Ehi Ma quella è Sofì 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 sei tu Sofì Sofì Arrivo Sofì 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 Io sono tua mamma Tu mi devi dire tutto Sofì ti puoi confidare Estreitas ci siamo noi i vostri genitori Ci dovete dire sempre tutto Che cosa è successo Sofì perché sei scappata? Mi hai fatto trovarmi mamma Va bene Ti dico tutto Praticamente Ginny e Jenny le due popolari Mi hanno minacciata con una mia foto In cui mi schiaccio un brufolo Sofì mi dispiace Comunque Estreitas anche voi ragazzi e ragazze Non fatevi minacciare mai da nessuno Parlatene sempre in famiglia con i vostri genitori O comunque con degli adulti fidati Con i professori Sì Sofì non sei sola ci sono io con te Mamma hai ragione Non mi fanno più paura le popolari Io non sono delle popolari Sono delle bulle Andiamo a casa dai così Mi spiegherai meglio Andiamo E comunque Estreita sono tanto contenta di aver ritrovato Sofì Meno male Tutto è bene Tutto è bene Quel che finisce bene E comunque È arrivato il momento Dei Besitos Ci vediamo al prossimo video Ciao Andiamo Andiamo a casa Sofì Non ti preoccupare più di niente Grazie Un besito Due besitos E il terzo in fondo al mar Siamo Sofì e moni Due sirrene Puoi chiamarci Las Lunas Un besito Due besitos E il terzo in fondo al mar Siamo Sofì